E tutti daranno conto un giorno davanti al suo tribunale per tutta la vita che hanno condotto sulla terra, non sul purgatorio, sulla terra, non solo un'altra vita, su questa vita, su questa vita l'uomo sdebiterà tutti quelli che ha commesso quando uscirà davanti al tribunale di Cristo. Su questa vita è che solo una vita gli è dato all'uomo e dopo questa vita viene la morte e dopo la morte viene il giudizio, dice la parola. Non indurite il cuore perché stiamo predicando non una parola col santo ma la pienezza dell'amore di Dio e per mezzo della sua parola vuole aggiungere i vostri cuori. Alleluia Gloria a Dio E' l'unica via che porterà il Padre, è l'unica via che riconcilerà i nostri cuori, le nostre anime con il Padre. Gloria a Dio, alleluia, Dio ti benedica. Alleluia, gloria al tuo nome Signore, chi pronuncia alleluia il tuo nome. Su, Signore, non dimenticherai. Alleluia, quest'anima. Gloria al tuo nome, Signore. Gesù è salvezza. Grazie Padre, che Dio benedica a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.